Un grandissimo risultato di civiltà che questa amministrazione ha fortemente voluto con grandissime difficoltà di vario tipo, economiche, amministrative, burocratiche, giuridiche, ma stiamo qui. Un ulteriore tassello nella riqualificazione complessiva dei cimiteri della nostra città, che questa è la prima installazione di una gara che si va a concludere a fine maggio e che prevede poi l'installazione di ulteriori due nuovi impianti e del completamento della riqualificazione di quest'area. Siamo veramente soddisfatti perché una grande città con una grandissima civiltà e con grande sensibilità e culto dei morti come Napoli non poteva non avere questo risultato, che è un segno di attenzione alla città, attenzione ai nostri cari, attenzione alle famiglie. E' una città che vuole dare la cifra del benessere anche curando sempre di più i luoghi, che sono luoghi di sofferenza ma anche i luoghi dell'animo.